Non sono ricattabile. Giorgia Meloni, 14 mesi fa, aggiungeva questa postilla all'elenco di aggettivi poco teneri stilato da Silvio Berlusconi su un foglio in Senato. Ora la Premier ribadisce il concetto perché è una persona che non si spaventa facilmente e lo stanno capendo in parecchi. E con il suo governo non c'è spazio per chi in passato in questa nazione ha pensato di dare le carte. I fatti dell'indagine sugli appalti ANAS, sottolinea, riguardano il precedente esecutivo. Affaristi, lobbisti e compagnia cantante con noi non stanno passando un bel momento, nota la Premier, che si prepara a dettare la giocata anche nella partita per le europee, propensa a candidarsi e a trascinare nel gioco gli altri leader e pronta a essere rigida con chi nel suo partito vive il momento senza cogliere la responsabilità che si porta sulle spalle. Il primo è Emanuele Pozzolo, il deputato pistolero per cui ha chiesto la sospensione da Fratelli d'Italia. Meloni annuncia la notizia alla quindicesima di 42 domande della conferenza di fine anno, slittata due volte per i suoi problemi di salute. Non scappo, chiarisce all'inizio delle tre ore, cinque minuti di botta e risposta con i giornalisti, con una breve pausa in bagno sul finire. La Premier fa il bilancio del 2023 e indica le priorità del 2024, il premierato, la riforma della giustizia, il piano di borse di studio per studenti meritevoli, il G7, il piano Mattei, fino alla messa a terra del PNRR. Grazie. 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 collinelle Grazie. Grazie. Grazie a tutti.